Dopo le possibilità di Martinello in attacco e di Cardinale in difesa, è arrivata l'ufficialità anche per l'allenatore Raffaele Novelli, fortemente voluto dall'imprenditore Aliberti nel campo basso calcio. 50enne anche gli ex salernitana ha lavorato prima con le giovanili e poi con la prima squadra, successivamente ha guidato il Barletta, la Propatria, la Primavera del Genoa, il Soerrento, il Foggia, il Manfredoni, il Melfi, la Vigor, la Mezza, la Versa e adesso condurrà i Lupi nel prossimo campionato di Serie D. Prevedibilmente affollata, la conferenza stampa di insediamento organizzata al Centrum Palace, sono un zemaniano aziendalista, più volte dichiarato in passato e nel momento in cui è stata ufficializzata la sua posizione con il campo basso calcio, l'allenatore Raffaele Novelli.